La Certosa di Trisulti è un monastero situato nel comune di Colepardo in provincia di Frossinone. Inizio di costruzione della Certosa fu fatta nel 1204. Di grande importanza nella Certosa Trisulli abbiamo la farmacia del XIV secolo. Di fronte alla farmacia ha un giardino molto ma molto bello, sempre all'interno della Certosa da visitare assolutamente la chiesa del monastero che è una bellezza rara. Molto vicino alla Certosa di Trisulti da vedere c'è anche il Pozzo di Antulo che è una grande voragine carsica con una profondità massima di 80 metri e una circonferenza di 300 metri. Andate a visitare la Certosa di Trisulti e il comune di Colepardo in Lazio, Italia.